Si svolgeranno quest'oggi ad Agropoli i festeggiamenti per la Madonna di Costantinopoli, la Madonna venuta dal mare che protegge tradizionalmente la città, i pescatori e gli uomini di mare. Dopo la viglia della notte e le messe del mattino, alle 18 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da donna Ernesto Nunziata, al termine della quale partirà la processione per le vie cittadine fino all'imbarco della statua della Madonna presso il porto di Agropoli. Come di consueto si svolgerà la processione a mare, con la presenza di centinaia di diportisti che onorano, con la loro partecipazione, la Madre di Dio e i Lidi da Trentova alla Torre San Marco, lungo il percorso della processione, saluteranno la Vergine con uno spettacolo continuo di fuochi pirotecnici. Al termine della processione a mare rientro, sempre in processione, alla chiesa del centro storico. Confermato a mezzanotte lo spettacolo conclusivo dei fuochi a mare. Come precisato dal parroco don Carlo Pisani e dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola, d'intesa con la famiglia Manganelli, dopo il lutto cittadino osservato in occasione dei funerali del giovane Biaggio, tragicamente scomparso lo scorso sabato, si è ritenuto giusto onorare la Madonna dedicando i festeggiamenti alla memoria di Biaggio Manganelli.